Ben trovati su Io non mi rassegno, la rassegna stampa di Italia che cambia. Io sono Annalisa Iannone e questa puntata di oggi sarà una puntata speciale dedicata a salute ed ecologia. Parleremo, perché non ne possiamo fare a meno, del coronavirus e parleremo anche di antibiotico resistenza. Vedremo cosa hanno in comune questi fenomeni e come possiamo affrontarli, partendo da un'analisi, da una visione sistemica e ecologica. Su Scienza Oggi, nell'articolo come nasce un'epidemia, si cerca di capire perché i virus che da milioni di anni convivono con animali, anfibi, rettili e più recentemente mammiferi, poi a un certo punto mutino e infettino anche l'uomo. Quindi quali condizioni hanno favorito questo passaggio evolutivo, questa mutazione? Leggiamo nell'articolo che in Cina sono molto frequenti le compravendite di animali selvatici, anche illegali, quindi non controllati dal punto di vista sanitario, oltre che legale. Ma anche la forte presenza di allevamenti super intensivi sono un fortissimo danno, creano delle condizioni molto forti per cui si sviluppino queste mutazioni. Su New York Times, un articolo che vi posterò sotto, invece si cerca di capire se può essere la deforestazione, soprattutto quella legata alle foreste pluviali, dei climi caldi, che possa creare queste condizioni adatte a queste mutazioni. Quindi dove l'uomo va nelle parti più remote, in realtà libera i virus dai loro naturali ospiti. Invece nell'ultimo time, ovviamente dedicato al coronavirus, si cerca di capire come l'aumento delle temperature, se l'aumento delle temperature possa aumentare, favorire questi fenomeni di diffusione dei virus. Perché nell'articolo leggiamo che l'unico vero strumento di difesa che abbiamo è il nostro sistema immunitario. Non esiste cosa più potente, cosa più raffinata, più complessa del nostro sistema immunitario. Ma qual è il meccanismo che adotta il nostro sistema immunitario per controllare le infezioni? È la febbre, quindi l'aumento della temperatura. Nel momento in cui aumentano le temperature, si selezionano naturalmente quei ceppi virali batterici che stanno meglio al caldo. E quindi il nostro meccanismo di difesa, quindi la febbre, potrebbe man mano essere sempre meno efficace. E questo è interessante. Oltretutto sarebbe praticamente solo a carico questo problema dell'essere umano, perché invece gli animali che sono portatori dei virus, che poi li trasmettono a noi, di solito hanno una temperatura corporea più alta. Quindi potrebbero non accorgersi neanche da questo punto di vista dell'aumento della temperatura. Così anche per esempio leggiamo il dottor Alberto Donzelli in una lettera pubblicata su Quotidiano Sanità che sconsiglia l'uso di antipiretici, sconsiglia l'uso di antinfiammatori. Gli antipiretici sono quei farmaci come il paracetamolo che abbassano la temperatura. Proprio perché bisogna dare durante l'influenza appunto le infezioni di questo tipo, bisogna dare la possibilità al meccanismo di agire. Quindi diciamo che dai 37 ai 38 gradi già il 90% dell'attività replicativa dei virus si blocca. A 39 gradi si blocca del tutto anche per i virus più virulenti. In più leggiamo in questo articolo che proprio l'uso di antipiretici facilita la trasmissione dei virus e aumenta anche del 5% i casi di malattia e morte. Quindi a maggior ragione gli antibiotici non devono essere usati perché sono assolutamente inutili nelle infezioni virali ma soprattutto compromettono ancora di più il sistema immunitario che invece in questo caso va sostenuto. Quindi queste mutazioni, questi processi adattativi di selezione adattativa sono fenomeni naturali ma vediamo che entrambi questi fenomeni sono promossi dall'attività umana. Quindi quando noi andiamo ad alterare un equilibrio dove i vari ceppi autocontrollano la crescita l'uno dell'altro noi per esempio con gli antibiotici ne uccidiamo alcuni diamo molto più spazio agli altri. Ovviamente diciamo i meccanismi adattativi sono molto più complessi di così però per avere un'idea insomma di quello che facciamo anche perché sono proprio nei luoghi di cura dove emergono questi fenomeni di antibiotico resistenza. Infatti negli ospedali dove c'è bisogno di più sepsi, di maggiore sterilità selezioniamo appunto i batteri resistenti e in più nei luoghi di cura c'è una maggiore percentuale di persone che hanno un sistema immunitario debilitato. Questo fa sì che emerga sempre di più questo problema in cui non riusciamo a curare le infezioni proprio negli ospedali. Quindi anche l'antibiotico resistenza diciamo è un fenomeno dovuto accelerato perlomeno dalla globalizzazione in particolare dal rapporto che abbiamo scelto di avere con gli animali. Quotidianamente anche se noi non facciamo personalmente uso degli antibiotici ma nella catena alimentare sono presenti proprio sono presenti germi e batteri che sono già resistenti per cui bisognerebbe adottare altre strategie oltre a quella chimica per gestire queste infezioni. Per questo la medicina diciamo industriale che si occupa appunto di farmaci per limitare dei fenomeni come dei fenomeni che possono essere pericolosi diciamo che agiscono soprattutto su sintomi che possono essere pericolosi e li controllano in realtà però questa medicina industriale non ha moltissimi strumenti per sostenere il sistema immunitario. È per questo che vediamo che le medicine cosiddette olistiche quindi naturali tradizionali energetiche hanno invece come target fondamentale proprio le risorse innate del sistema uomo quindi il sistema immunitario. Infatti leggiamo sul New York Times ma su diverse riviste che in questo momento in Cina negli ospedali cinesi si usa anche la medicina tradizionale quindi della fitoterapia sappiamo che hanno prodotti adattogeni quindi che si adattano proprio alle condizioni dell'organismo e probabilmente anche la gopuntura appunto che è una medicina energetica diciamo una tecnologia una tecnica energetica. C'è molto dibattito sulle riviste scientifiche sulla quantità di persone infettate nel senso che mentre viene aggiornato sempre di più la quantità di persone infettate in realtà anche l'OMS ha detto che l'80% della mortalità è a carico di ultra sessantenni quindi di chi ha il sistema immunitario più compromesso ma in realtà persone o più giovani o comunque che stanno meglio potrebbero essere infettati ma non avere avere dei sintomi così lievi da non rendersi conto neanche di essere infettati quindi questo è un problema che è molto discusso anche nell'ambito di un possibile controllo di queste diffusioni di queste infezioni. Comunque la cosa buona è che in realtà noi possiamo fare moltissimo non è vero quello che è stato scritto spesso in questi giorni che possiamo solo aspettare che si faccia il vaccino invece aspettando il vaccino l'anticorpo monoclonale quello che la scienza saprà restituire e in realtà noi possiamo fare la cosa più importante quindi sostenere il nostro sistema immunitario ovviamente con lo stile di vita quindi l'attività fisica adeguata number one la cosa più importante l'alimentazione quindi cibi genuini freschi poca carne e sicuramente che non proviene da allevamenti intensivi che sono così lontani dall'equilibrio naturale che se non gli dessero gli antibiotici in maniera preventiva gli animali si ammalerebbero quindi insomma parliamo veramente di poca salute in questo meccanismo ma per esempio l'uso di cibi fermentati di probiotici sono tutte cose che stimolano moltissimo il nostro microbiota perché il nostro sistema immunitario è lì che che fa palestra è lì che si fortifica perché è proprio nella popolazione che vive insieme a noi perché noi siamo degli organismi simbionti e proprio perché in questo continua relazione in questo continuo confronto con tutti questi virus batteri che sono dentro di noi perché siamo molti dna il sistema immunitario si allena e si tiene vispo diciamo altra cosa è limitare moltissimo l'uso di zuccheri perché gli zuccheri sono decidi e gli alimenti che contengono zuccheri sono degli alimenti infiammatori quindi coinvolgono il sistema immunitario occupano quel ramo del sistema immunitario che si occupa dell'infiammazione sistemica invece in proprio in questi casi noi abbiamo bisogno che il sistema immunitario si occupi di virus e batteri quindi dell'immunità cellulare cosiddetta detto questo ho sforato il tempo vi ringrazio e vi ricordo che chi si rassegna è perduto ciao